Una commissione d'indagine per verificare lo stato dei lavori più Europa, questa la proposta della minoranza bocciata in aula. I consiglieri di opposizione prima di iniziare la discussione hanno distribuito ai colleghi un dossier fatto di foto e relazioni tecniche sui lavori effettuati e che presenterebbero già problemi. Ma secondo sindaco e consiglieri di maggioranza non c'è alcun bisogno di istituire una commissione ad hoc. Io sono rimasto veramente alibito, è strano che la maggioranza non addiviene ad accettare una commissione d'indagine su una proposta che nasce da lavori più Europa sulla quale i dirigenti che sono oggi preposti al più Europa non sono stati nominati da questa amministrazione, non hanno nessun riferimento dal punto di vista politico. Mi sembrava tutto orchestrata, arriva in Consiglio Comunale, era la relazione tecnica dopo che da due mesi e mezzo noi abbiamo chiesto la convocazione del Consiglio Comunale che è la maggioranza disertata, arriva dopo due mesi una relazione tecnica in Consiglio Comunale nella quale si dice che sono stati radicalmente affrontati molti errori fatti dalla ditta. Allora io dico, se c'è questa condizione di errori, se ci sono tutte quelle condizioni di errori che i consiglieri della minoranza hanno così bene illustrato durante il Consiglio Comunale, io ritengo che veramente non procedere alla costruzione della commissione d'indagine è veramente un bonus alla democrazia.